Amiche e amici di Antenna 2 TV, buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata di Antenna 2 Sport e come ogni martedì sera andiamo a presentarvi quelle che sono le realtà sportive del nostro territorio ma questa sera ci sposteremo anche più in là perché insomma arriviamo addirittura al nord Italia iniziamo subito andando in provincia di Monza e sono davvero fiera e orgogliosa di ospitare qui con me in studio la SD Silvia Tremolada, loro sono i rappresentanti del gruppo di atletica e da fare da portavoce è proprio il loro coordinatore Riccardo Calarco Ciao Riccardo, innanzitutto da Monza qui a Clusone per presentarci questa realtà molto importante e soprattutto poi ci racconterai anche perché hai scelto Jacopo e Francesco qui ospiti con noi in studio ma innanzitutto raccontiamo della vostra società, chi siete, quanti siete, cosa fate, come operate poi sul territorio di Monza immagino non solo Allora innanzitutto grazie, grazie per averci ospitato noi siamo una SD di Monza, SD Silvia Tremolada abbiamo più di 300 atleti che praticano vari sport Jacopo e Francesco nello specifico fanno atletica, Jacopo fa anche nuoto abbiamo più di appunto 300 atleti disabili ed è una società storica di Monza che pratica per ragazzi con disabilità sensoriali e fisiche oggi siamo qui per parlarvi di un bellissimo progetto che abbiamo iniziato qualche mese fa tramite una raccolta fondi il progetto nasce dal sogno di Francesco, di Frank, nello specifico il soprannome Jackie per Jacopo il suo soprannome detto anche il malefico, dopo vi racconteremo il perché e niente, in sostanza il progetto della Maratona di New York nasce dal sogno di Francesco che un giorno con una scuola liceo classico Zucchi alle domande di alcuni ragazzi del PCTO esce proprio questo suo desiderio, questo sogno di correre la New York Marathon lui è già stato a New York, ha visto la città ma non ha mai corso a New York e in quell'occasione diciamo la buttò un po' lì poi successivamente ci siamo trovati, magari se vuoi dire anche te ti ricordi perché volevi correre, quali erano le cose che volevi raggiungere andando a New York correndo la Maratona insieme al mio compagno Jacopo esatto quindi questo era un po' il tuo sogno Francesco, quello di fare la Maratona di New York sì sì, è il mio sogno e adesso insomma Riccardo tu li hai presi a tutti gli effetti in carico e li stai preparando assolutamente, allora la missione è doppia perché inizialmente Francesco diciamo viene dall'atletica ha 4-5 anni di esperienza nel mondo della corsa aveva già fatto una mezza maratona sotto le due ore quindi ha comunque un buon ritmo e a tutti gli effetti possiamo dire un atleta laureato e adesso ha portato dentro questa missione oltreoceano anche il suo compagno Jacopo che è da solo un anno, un anno e mezzo che fa atletica quindi ovviamente difficoltà diverse ma ce la metteremo tutta no ragazzi? ce la metterai tutta Francesco? sì ma è dura adesso preparare questa Maratona? sì è un po' dura come una salita però ci arriveremo sicuramente il percorso è in salita ma come per tutti perché effettivamente preparare una Maratona è davvero molto molto complesso ma Riccardo tornerei da te velocemente per raccontare della vostra società prima di andare a far parlare direttamente i ragazzi mi hai detto avete un gruppo di 300 atleti divisi su diverse specialità e siete un po' il punto di riferimento per tutta la provincia ma immagino insomma che il bacino poi si estenda anche alle province limitrofe sì assolutamente diciamo che andiamo a coprire quella che è tutto il territorio della Brianza di ragazzi ce ne sono veramente tanti nel lato nuoto diciamo siamo molto più conosciuti perché abbiamo tanti atleti tesserati per il nuoto in atletica è un progetto che sono entrato tre anni fa come volontario e diciamo che mi sono innamorato di questi ragazzi ed ho fatto fatica a poter andarmene via perché ti prendono in qualche modo e mi hanno fatto trovare quel tempo che non avevo per dedicarmi a loro e il progetto è partito tre anni fa avevo otto nove ragazzi che facevano atletica adesso guardate quanti siamo esatto sto vedendo le immagini che state trasmettene questa è la foto di gruppo proprio del gruppo atletica sì sì questo è una parte del gruppo non sono tutti sono alcune delle immagini appunto della nostra squadra abbiamo uno staff che è composto da quattro coach e due educatori che ovviamente nell'arco degli anni qua Francesco che ha vinto l'oro agli italiani FISDIR a Ferrara è l'ultimo anno che è passato anche quest'anno abbiamo i nazionali quindi ci stiamo preparando parallelamente a varie iniziative ci sono sia Special Olympics e sono due federazioni tendenzialmente che diciamo parlano con i ragazzi e sono Special Olympics e FISDIR tendenzialmente queste due federazioni organizzano varie gare adesso Special Olympics abbiamo a Salso Maggiore il 7, l'8, l'9 giugno e poi ci sarà l'appuntamento, il prossimo appuntamento che ancora è da confermare fine settembre e inizio ottobre per FISDIR ma Riccardo per te che sei un po' l'allenatore, il coordinatore proprio di questo sogno che Jacopo e Francesco andranno a realizzare, come si prepara una maratona per questi ragazzi? Allora questa è una bellissima domanda, diciamo che loro sono atleti ma bisogna ovviamente dare un occhio di riguardo a loro perché sono innanzitutto due atleti differenti quindi hanno due tipologie di allenamento diversa ma abbiamo cercato nella prima fase di allenarli insieme per fargli appunto trovare quello che è lo spirito di squadra adesso in questo momento che tra l'altro abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici che abbiamo trovato durante il percorso quindi si sono un po' fermati ma stanno riprendendo ad allenarsi abbiamo anche ricevuto delle tabelle da Orlando Pizzolato quindi un nome che tutti conosciamo in materia e quindi adesso i ragazzi seguiranno queste tabelle e cercheranno di portare a casa ogni chilometro per poter compiere questa missione oltreoceano Francesco vengo da te, mi dici innanzitutto quanti anni hai? Ho 26 anni e vengo e abito a Monza Abiti a Monza, Monza città? Sì Fantastico, ma è impegnativo mi hai detto preparare questa maratona, quante volte a settimana ti alleni? Mi alleno tre volte, a settimana ho anche quattro, dipende dai giorni Dipende dai giorni, sono lunghi questi allenamenti? Sì, sono lunghi però ci arriverò alla metà di New York Questo ne siamo certi, ti ricordi quando sarà la maratona di New York? Sarà il primo novembre Primo novembre, quindi è quella la da Ho sbagliato, il tre novembre Lui è già pronto per partire Perché partirà il primo Esatto, quindi sarai pronto Io ho visto che ti alleni sulle piste ad atletica, immagino del centro sportivo di Monza ma ti piace correre anche all'aperto, fuori, magari in qualche parco Mi piace correre al parco di Monza ed è un bellissimo parco Lì cosa c'è che ti piace di più? L'autodromo L'autodromo Ma anche tutto Che ho visto anche allo stadio, sei tifoso del Monza anche? Sì Chi è il tuo giocatore preferito? Guarda che qui teniamo un giocatore Matteo Pessina Stavo dicendo, guarda che qui teniamo un giocatore in particolare perché ha giocato anche nell'Atalanta Che è proprio Matteo Pessina che è il capitano Il capitano Bene, bene, bene Allora, com'è allenarsi poi con Jacopo? È una bella emozione Sei tu che trascini lui o è Jacopo che ogni tanto? Siamo tutte e due Ogni tanto vi trascinate a vicenda quando siete stanchi Sì Sì, diciamo che il loro rapporto è bellissimo Tipo i terreni Essendo, tra virgolette, due opposti Uno parla tanto, l'altro non parla Diciamo che Jacopo è il compagno ideale perché non disturba Francesco mentre corre Però ascolta e quindi Francesco può parlare Perché dovete sapere che lui fa 21 chilometri sotto le due ore Ma parla Ma parla sempre E quindi chissà quanto potrebbe fare ancora Ce lo stiamo chiedendo tutti Chissà quanto potresti fare in questa mezza maratona Ma lì ho visto che sei salito sul podio ai campionati italiani Ti ricordi quella gara? Hai voglia di parlarcene? Sì, erano i 150 di Ferrara davanti a tutto il pubblico Tra cui anche i miei familiari Io sono partito all'Osparo e ho subito raggiunto il primo e dopo l'ho staccato E' stata per me una bellissima emozione vincere questi campionati italiani Te li ricordi gli applausi del pubblico? Sì, me li ricordo che la mia società mi ha festeggiato E' stato bello? Sì E c'era anche Jacopo con te a parte C'era anche Jacopo E cinque anni che fai atletica Ci sono altri risultati o altre gare particolari che ti ricordi? Sì, il Trail delle Grigne Sud che sono arrivato primo Lui è sempre stato campione del Trail delle Grigne Sud Come atleta disabile ha vinto tutte le edizioni del Trail E quest'anno tra l'altro ho partecipato anche alla Molina Double Trail E ho vinto pure questa edizione Quindi ho portato a casa un bellissimo trofeo E' bello, hai l'angolo dei trofei in casa? Sì, sia dei trofei che delle medaglie Bisogna allargare adesso l'angolo dei trofei Diventerà una stanza dei trofei perché ne ha tanti Diventerà come un museo E io non vedo l'ora di vedere qualche foto, qualcosa Vi ne andrò a vedere perché Immagino che poi la mamma sia impegnata nel spolverare tutte le coppe O sei tu che sei l'addetto alle pulizie? Tutte e due Tutte e due, insieme La mamma ti ha accompagnato questa sera? Sì, è lì È stato bello? Sì Poi chissà cosa ti dirà di questa ospitata qui in televisione È la prima volta in tv? Sì Chissà dopo la maratona quante volte verrai ancora a raccontare anche di questa esperienza E invece raccontami di Jacopo, è bravo? Sì, è un bravo compagno Adesso vado da lui Vediamo un po' se Jacopo ci sta a rispondere perché io e Jacopo abbiamo una cosa in comune Cioè il nuoto So Jacopo che anche tu fai nuoto Quale stile fai Jacopo? Anche stile libero Quindi insomma immagino che ti aiuti anche a livello di fiato Sì, sì, sì Diciamo che lui comunica molto velocemente col sì e no E sì, si aiuta col fiato È un grande nuotatore Lui viene prettamente dal nuoto perché ha fatto tantissimi anni nel nuoto E adesso sta provando appunto da un anno e mezzo a correre Con grandissimi risultati Perché devo dire che ci ha stupito veramente tanto I due ragazzi poi seguono anche un programma di nutrizione Quindi sono seguiti anche sotto quell'aspetto lì Ed è giusto che poi vengano effettivamente considerati atleti Io dico sempre poi una cosa importante Quando poi parliamo sempre di disabilità Ma questi ragazzi fanno veramente tantissimo sport E sono degli sportivi prima che degli atleti disabili E quindi mi piace lanciare questo messaggio È un bel messaggio davvero Ecco assolutamente Perché poi sfido anche gli altri che sono i cosiddetti normodotati A correre sotto le due ore nei 21 chilometri Non so quante poi persone riescano Lascio fare a loro Ma Jacopo ti piace nuotare o fare atletica di più? Che caro Ti piace l'atletica di più? Ormai ti sei spostato nella corsa E vuoi tanto bene a Francesco? Jacopo Jacopo Vuoi tanto bene a Francesco? Sì Titi E perché ti hai questo soprannome? Vediamo un po' All'inizio della puntata Allora Jaci sì Diciamo che lui inizialmente ha un'altra passione Tra le tante passioni oltre la corsa e la parte sportiva È anche un pittore nel tempo libero Quindi adesso stiamo anche organizzando una mostra Delle mostre in realtà sono più occasioni La prima sarà il 7 maggio Mi ricorda Francesco che è un'ottima memoria Il 7 maggio al Pirellone dove c'è la regione Lombardia La sede è la regione Lombardia E poi le altre date vediamo La seconda è il 24, il 25, il 26 maggio a Colonio Monzese In una chiesa consacrata E poi ci sono altri appuntamenti che non sono ancora stati Da maggio a Segrate Bravo E per chiudere a Monza Esatto E cosa disegni Jacopo? Cosa ti piace disegnare? Lui disegna, è un artista Adesso i suoi quadri diciamo che sono vari Il quadro principale da cui è nata poi questa idea È stato proprio un quadro di New York Perché è ispirato un po' da quello che andranno a fare Vedendo appunto le varie foto dei grattacieli Ha iniziato a dipingere e a creare queste opere d'arte E farà questa mostra con 43 quadri Proprio per riprendere quello che è il nome della mostra Che è la 42,195 E quindi quel 0,195 abbiamo fatto un 43esimo quadro Per coprire tutto Giusto, gli ultimi metri Esatto, gli ultimi metri Chiaramente Riccardo mi dicevi che c'è una raccolta fondi Che potrà aiutare questi ragazzi Per realizzare il loro sogno Di cosa si tratta E come anche i telespettatori di Antenna 2 possono aiutarvi Allora, sì, si chiama Frank e Jackie Road to New York E la trovate su GoFundMe È una raccolta che come anticipavo esatto È partita qualche mese fa Adesso stiamo raccogliendo Siamo a buon punto Manca veramente poco per arrivare a raggiungere l'obiettivo Ovviamente è importante che anche un piccolo gesto possa aiutare questi ragazzi a portarli oltre l'oceano Per loro è una missione difficilissima Per voi molto semplice Perché poi veramente basta un poco Per i chilometri li faranno loro Quindi vi assicuro che non è Però dietro, ho detto, questo progetto ovviamente C'è un costo elevato Perché oltre a questi due ragazzi Ci sono tre volontari che li accompagneranno Che sono tre maratoneti Che partecipano alle vari allenamenti con i ragazzi Li seguono day by day E quindi è bello che si crei questo, diciamo, spirito di squadra Come dicevo all'inizio E poterli portare fino là Francesco, quella medaglia da finisher dove la mettiamo? La mettiamo nel medagliere Nel medaglia, in corniciata Facciamo una bella cornice perché quella vale tanto Buoni allenamenti sia a Jacopo Sia a Francesco Ma soprattutto anche a Riccardo Io vi ringrazio davvero di essere stati qui ad Antenna 2 Francesco, vuoi salutare il pubblico di Antenna 2? E vi ringrazio salutare i nostri familiari I nostri volontari La nostra squadra E tutti i miei parenti e amici Che ci ascoltano E ci supportano E ringraziamo anche Antenna 2 Per averci ospitato Grazie Piacere, è nostro avervi qui Anzi, tifiamo per voi Fateci sapere Perché poi dopo la maratona io vi riaspetto qui Assolutamente, è un piacere Mi raccomando Lui vuole dire una cosa su un giocatore Perché vinceva da Atalantino Ti fa anche un po' Atalanta Perché il suo giocatore preferito Perché il mio giocatore preferito Che ho il fantacalcio è il Camacca Adesso sta facendo bene Ieri sera ho fatto un gol Un altro gol Un altro gol fantastico Vedi che già Luca Scamacca Regala tante emozioni Meno male, meno male Francesco resta seduto lì Perché insieme mandiamo la pubblicità Altrimenti il maestro Felix ci manda a nero Grazie mille davvero In bocca al l'uomo Grazie a voi Voi rimanete con noi perché dopo la pubblicità Andiamo a parlare di un camp davvero speciale E da Monza ci spostiamo a Bergamo Ci spostiamo in città perché lì ha sede l'Associazione Arma Aeronautica Sezione Bergamo E è venuto qui a trovarci in studio per questa prima volta Ad Antenna 2 Sport Alessandro Carminati Buonasera Alessandro E grazie per essere qui a Clusone Qui in Alta Valle Seriana Buonasera, buonasera a tutti Buonasera a tutti i telespettatori Grazie dell'invito Grazie a lei Allora qui questa sera Stiamo per promuovere e far conoscere Quello che sarà un camp estivo Dedicato ai ragazzi Che si terrà proprio nel mese di luglio Con un Open Day speciale Il 28 di aprile ma me ne parleremo dopo Io sono curiosa però di conoscere Di capire chi siete Cosa fate Che gruppo siete Io so che avete sede a Bergamo In città ma la sede operativa è proprio a Comunuovo Insomma questa associazione Arma Aeronautica Che cosa fa? Perché qual è la vostra mission? Allora diciamo che la nostra mission Della associazione Arma Aeronautica È quella comunque di portare Le tradizioni dell'aeronautica E di far conoscere ecco La cultura dell'aeronautica E dell'aerospazio Alle nuove generazioni Soprattutto le nuove generazioni Cosa che la sezione di Bergamo Da tre anni in questa parte Sta facendo con grandi passi da gigante A nostro detto E quindi siamo contenti Insomma di essere arrivati Ecco a questa soglia Della terza edizione Eh sì Terza edizione di questo camp estivo Come dicevo Proprio in fase di apertura Che si terrà Dal 15 al 27 di luglio Proprio qui Alla casa dell'orfano Alla Ponte Selva Di Clusone Ma io tornerei Ancora sull'associazione Perché Voglio un po' sapere Che cosa fate Come associazione Quali sono I vostri obiettivi Oppure Che tipo di requisiti Bisogna avere Per far parte Della vostra associazione Allora io partirei ecco nel dire Che l'associazione Arma Aeronautica Sezione Bergamo È nata nel 1958 E in questi anni Si è un po' Ha un po' Cambiato pelle No? E abbiamo dei primati Dove Che l'associazione La sezione di Bergamo Ha A suo Interno Ben 12 nuclei E 428 Per la precisione Soci Soci Che sono Hanno fatto parte Della aeronautica militare Oppure Soci appassionati Del mondo Del volo E dell'aeronautica E delle frecce tricolori Perché non dimentichiamo Che noi abbiamo Un'eccellenza A livello nazionale Che sono le nostre Frecce tricolori E Per questo Ecco L'associazione La sezione di Bergamo Ogni anno Organizza Una barra due gite Anzi Visite Diciamo così E dove Andiamo Andiamo Ecco Ad ammirare Le nostre frecce tricolori In questo Magnifico Airshow Solitamente A Jesolo Piuttosto che A Desenzano E quando Organizziamo Ecco queste Queste gite I pullman Non bastano E immagino Anche perché Insomma Sono davvero Spettacolari E questo Credo che sia L'aggettivo Più corretto Da utilizzare Quando si parla Di frecce tricolore Sicuramente Si resta Col naso All'issù Nel frorionda Quando parlavamo Di numeri Chiaramente Alessandro Faceva riferimento A questo Importante numero Che sono oltre 400 Gli associati Settima sezione A livello nazionale Anche questo È un motivo Di grande orgoglio Diciamo che La sezione di Bergamo Ha dei primati Tra i quali Ecco Siamo settimi In su 325 sezioni Nazionali Siamo al settimo Posto Come numero Di iscritti E Gli iscritti Stanno sempre Più aumentando Alla sezione E all'associazione Si possono Iscrivere Chiunque Da 18 anni in su Appassionati Di volo Piuttosto che Dell'aerospazio Piuttosto che Semplici Curiosi Ecco Voglia di Mettere La propria passione Il proprio Volontariato Nell'associazione E c'è un collegamento Anche con Clusone Che io non lo sapevo Ma c'è un gruppo Anche qui In Alta Valle Seriana Sì sì Qui a Clusone C'è il nucleo Di Clusone Che fa parte Della sezione Di Sarnico Infatti Salutiamo Voglio salutare il presidente Della sezione di Sarnico Assolutamente Che tra l'altro Sono Praticamente I nostri Sponsor Chiamiamoli così Perché loro Ci hanno consigliato Ci hanno fatto Ci hanno presentato La nuova sede Del camp E da due anni Questa parte Ecco Sono all'interno Della nostra organizzazione Eh sì Veniamo a questo camp Perché tra le attività Che organizza appunto Questa sezione Di Bergamo C'è un camp Davvero speciale Che dopo due anni Di rodaggio Mi consenta Di utilizzare Anche questo Termine All'oratorio Di Bonate Sotto Arriva qui E fa tappa Proprio in alta Valle Seriana Direttamente È alla casa Dell'orfano Proprio a Ponte Selva Vicino alla sede Dei vigili del fuoco Per intenderci Un camp Estivo Come fare Per iscriversi Insomma Vogliamo sapere Davvero tutto Allora Diciamo Diciamo Che questo Progetto Chiamato Benvenuti a Bordo Un progetto Nato Durante la pandemia A tavolino Tra quattro soci Si parlava Si parlava Del più Del meno E Pensavamo Un attimino A cosa Proporre Ai ragazzi Poi Dopo Dopo la pandemia Abbiamo Comunque Valutato Un po' Di cose E quindi Ci siamo Detti Ma Perché no Creiamo Anche noi Un campo Scuola E così Abbiamo fatto E Diciamo Che il primo anno Non pensavamo Di avere Questo Successo Perché Comunque Come abbiamo Aperto le iscrizioni Dopo due mesi Li abbiamo dovute Chiudere Perché non c'era più Posto Eravamo già in overbooking Eravamo già in overbooking E L'abbiamo fatto Ecco All'interno Delle Dell'oratorio Di Buonate Sotto E dove ci hanno ospitati Per due anni E A distanza di due anni Per necessità Proprio di struttura Abbiamo dovuto Ecco Cambiare sede E E la sezione di Sarnico Ci hanno detto Ma perché non venite A Clusone Nella magnifica Diciamo Casa dell'Orfano L'abbiamo visitata E devo dire Che siamo rimasti Folgorati Meravigliati Dalla bellezza Sono due settimane Quelle che Vi vedranno qui Presenti In quelle di Clusone Vi ricordo Per i ragazzi Prima, seconda E terza media Dove Farete diverse attività E qui Il collegamento L'antenna 2 sport Perché insomma Le attività Sono anche proprio Relative A tanto sport Che i ragazzi Impareranno a fare Proprio in mezzo Nel cuore Dalla pineta Esatto Esatto Allora Diciamo che Le due settimane Sono divise In prima settimana Dove arrivano Ragazzi Chiamiamoli nuovi La loro prima esperienza Di campo La seconda settimana Invece i ragazzi Che arrivano Dalle edizioni Precedenti Cosa troveranno Nel programma Troveranno Ovunque Le attività Aeronautiche Che vanno Dai simulatori Alla meteorologia Torri di controllo Piuttosto che L'unità cinofila La motoristica Quest'anno Abbiamo inserito Anche la motoristica La cartografia E la navigazione Però oltre Ecco A queste nozioni Di aeronautica Abbiamo anche L'aerospazio Oltre a queste nozioni Aeronautiche Abbiamo anche Tutta la parte Sportiva Di gioco Ludic E quant'altro Dove abbiamo Un pentathlon Abbiamo un tiro Con l'arco Abbiamo comunque Il corso Il percorso Ad ostacoli Abbiamo vari giochi Di squadra Perché? Perché i ragazzi Verranno suddivisi In quattro squadre E tutta L'intera settimana I ragazzi Dovranno comunque Portarsi a casa Più punteggio possibile Infatti Ogni attività Avrà un proprio punteggio Per poi arrivare A sabato sera Che è la cerimonia Di chiusura E lì si Proclamerà La squadra Vincitrice Insomma Di tutti questi giochi Di tutte queste attività Sportive Fate Durante la settimana Io ho visto delle foto Bellissime A tutti gli effetti Trasferirete un aeroporto Alla casa dell'orfano Eh sì Diciamo Diciamo di sì Diciamo di sì Allora Noi abbiamo Comunque Ecco qui state vedendo Alcuni nostri simulatori Ne abbiamo ben quattro Abbiamo due simulatori civili E due simulatori frecce tricolori Abbiamo proprio il simulatore frecce tricolori Dove i ragazzi Iniziano comunque Il loro primo approccio Con questo simulatore Con un VR E con questo VR Loro entrano proprio nella gabina Nell'abitacolo Delle frecce tricolori E cercheranno ecco Di fare qualche evoluzione Come i nostri Come i nostri Magnifici Pony Ma servono delle competenze particolari E un Non so Fisicamente i ragazzi Devono essere pronti Per iscriversi A questo camp No assolutamente no Possono partecipare Qualsiasi ragazzo Anche solo per curiosità E quindi non serve Una dote fisica Assolutamente Serve solo tanta passione Tanto Tanta voglia di conoscere I ragazzi Questo lo sanno fare Molto 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 bene Diciamo che abbiamo avuto In questi due anni Ragazzi magnifici E hanno Ci hanno assorbito Tutte le energie E noi siamo ben felici Perché comunque Quando li vedi Il sabato sera Dopo la cerimonia Arrivano Ti abbracciano Con le lacrime agli occhi Perché non se ne vogliono più Andar via Sono quasi tristi Dover andare Esatto E la lacrimuccia E noi istruttori Scappa E quello è davvero È davvero molto importante Ricordiamo L'appuntamento Con l'open day Perché l'open day A tutti gli effetti È aperto alle famiglie Quindi c'è un modo Per iscriversi Uno si può presentare A questo open day Del 28 di aprile Ve lo ricordo Fra proprio qualche giorno Alla casa dell'orfano Si terrà questo open day Proprio dove vi verranno mostrate Tutte le attività Che verranno fatte Durante la giornata In questo camp Campo scuola giovani Avviatori avviatori In 2024 Esatto Sì abbiamo Per il primo anno Abbiamo aperto L'open camp Anche perché Diamo modo Alle famiglie Di visitare La struttura Quindi Le famiglie arriveranno Allora Il mattino Verranno le famiglie Della prima settimana Il pomeriggio E invece le famiglie Che parteciperanno La seconda settimana Entreranno Ci saranno Ad accogliere I noi struttori E aiuti struttori Li porteremo In visita Alla struttura Quindi faremo vedere Tutti gli ambienti Del campi Dove ecco I loro figli Staranno per una settimana Staranno per una settimana E poi Subito dopo Ci sarà La presentazione Del programma Dell'intera settimana Alla presenza Di noi struttori Dei docenti E dei volontari Ecco Dell'associazione Come fare per iscriversi? Allora Troverete tutte le indicazioni Sul nostro sito web Oppure su facebook Allora Assoreonautica Bergamo 016 Punto it È il sito web Invece su facebook Benvenuti a bordo E troverete tutte le indicazioni Posso dire Certo Una cosa Ne diamo anche questi Anche questo Andiamo orgogliosi Quest'anno Siamo arrivati A 15 regioni partecipanti Arrivano ragazzi Da tutta Italia Addirittura Dalla Sardegna Dalla Sicilia Quindi È proprio Fantastico Alla fine C'è davvero ragazzi Che arrivano da tutta Italia Anche in un modo Per confrontarsi Esatto Per quest'ultimo Insomma Davvero Una vetrina Anche per i ragazzi Dell'Alta Valle Seriana Che possono davvero Attingere due passi da casa A questo camp Davvero molto Molto particolare Ma Io sono curiosa Alessandro Di solito Noi chiediamo Le storie Dei nostri ospiti Insomma Come mai Adesso è qui A capo di questa Associazione Dedicata all'aeronautica E soprattutto È istruttore Per questi ragazzi Ci racconta un po' Il suo passato Beh allora Io ho fatto parte Dell'aeronautica militare Come diciamo Servizio Normale Che si faceva Militare Militare Dopo Ecco Qualche anno Mi sono iscritto Alla sezione di Bergamo Ho sempre comunque Avuto Quella cosa Verso i ragazzi Il proporre Progetti Verso i ragazzi Quindi ecco Il mio passato È stato anche Istruttore E volontario Dell'oratorio Tutto è nato da lì Vabbè insomma Tutto nasce negli oratori Negli oratori Ecco Ho presentato Questo progetto Al mio attuale Presidente Anche al Presidente Nazionale Dove l'hanno accolto Con molto Molto Entusiasmo Però mi hanno detto Fai tu Quindi carta bianca Carta bianca Devo dire Che è stato Molto faticoso Comporta Parecchie energie Però Diciamo che Quando poi Vediamo I ragazzi Al campo scuola Tutte le fatiche Si lasciano Si lasciano Dentro le spalle E lì poi Ecco Ho una grande passione Proprio nel trasmettere Alle giovani Generazioni Quello che è Il mondo Reonautico Questo è proprio La mia passione Interiore Ci dedico 24 ore su 24 365 giorni All'anno Io Come gli altri I miei colleghi Quindi Che dire È una È una bella realtà Chi vuole Partecipare Noi siamo ben felici Di accogliervi Il 28 Abbiamo Ecco questo Open Camp Vi aspettiamo Se volete Diciamo Prenotare L'Open Camp Potete Prenotarlo direttamente Sul sito Oppure venire direttamente Senza nessun problema Troverete me Troverete Tutti i miei collaboratori Istruttori E vi aspettiamo E vi aspettiamo Numerosi È sicuramente un'occasione Per i ragazzi Della nostra Bergamasca E non solo Partecipare a questo Camp dei giovani Abbiatori Benvenuti a bordo Io ringrazio Alessandro Carminati Per avercelo presentato E per essere venuto Qui nei nostri studi Grazie davvero In bocca al lupo Grazie Ecco se posso dire Ancora due Vai Ecco due cose Ecco sono Perché quest'anno Abbiamo inserito Delle novità All'interno Delle didattiche Abbiamo inserito Il laboratorio lunare Abbiamo inserito La motoristica Come ho detto prima Abbiamo inserito La meteorologia Fatta in un certo modo E naturalmente Anche Diciamo Tutta la parte sportiva Che adesso non svelo Ma se venite All'Open Camp Saprete tutto E qui con questo suspense Vi salutiamo E grazie davvero Ancora Alessandro Carminati In bocca al lupo Voi rimanete con noi Perché abbiamo fatto Davvero Il giro del nord Italia Siamo partiti da Monza Siamo arrivati a Bergamo Ed ora andiamo Sino a Trento Monza Bergamo Ed ora Arco di Trento E sì perché È proprio d'Arco Che arriva Il nostro ospite Di questa sera Sto parlando di Omar Oprandi Che è la nostra Guida alpina Ciao Omar E grazie per essere Tornato qui Nei nostri studi Di Clusone A trovarci Sempre volentieri Perché siete una televisione Che presta attenzione Anche a queste cose particolari Eh sì perché È proprio di una spedizione Molto particolare Che ci parlerai Questa sera Ma in realtà Con te potremmo Dedicare Dieci Dodici Tredici Trasmissioni Perché sono tante Le imprese Che ti vedono Protagoniste Noi andremo a raccontarveni Una in particolare Ma prima di iniziare Vi facciamo vedere Un piccolo video Sempre dal passo Come il brand è dietro Sotto quella macchia bianca Ok Tutta la forestale Senza neve E poi La cresta Che vi ho detto prima Royoc Tutta la cresta Palù Passo Palù Qua sotto Le due persone Che dicevo prima Sono ferme lì Le ho superate Lì E proprio lì al passo Adesso Stiamo proprio Arrivando Sul Palù Intanto Avete visto Tutta la prossima parte Che vuol dire Fammi vedere Se c'è un po' di cresta Ma poca roba Lì sotto C'è il rifugio Sette Selle Eccola Poi Da rifugio Si sale In quella valle di fronte In cima La punta bianca Là in centro Poi mi sposterò Tutto guardando La pia destra Dietro quella Piramide All'ombra Tutti quei colli Intermedi Ok Fino ad entrare Nella conca Del lago L'ardemolo E poi su Al pizzo alto E poi Le cimerso Si vedono Un po' di traverso Travorpolo light Di quei due lì E poi Avanti Se va tutto bene Eccoci qua Insomma Questo bellissimo video È stato realizzato Il 25 di marzo Giorno di questa Spedizione Davvero meravigliosa A parte la giornata Meravigliosa Una neve Altrettanto meravigliosa Omaro Prandi Raccontaci Di questo bellissimo Giro ad anello Che ti ha visto Protagonista Nel raccontare Quelle che sono Le nostre Meravigliose montagne Certo In Italia Abbiamo le Alpi Abbiamo le Prealpi Le Orobie Sono delle Prealpi Da noi Le montagne Trentine Vicino Trento Sono praticamente Anche quelle Le Prealpi E si aspetta La condizione giusta Il 25 di marzo Aveva fatto Uno zero termico Basso Cioè vuol dire Che rimane freddo Anche a quote Più basse Diciamo Di quella Che è la media Magari Di quest'anno Che è stata Abbastanza alta Condizione Che ti permette Di percorrere Quello che abbiamo visto C'è tutta una catena Di montagne Con la sicurezza Di una neve Dura Che si è indurita Durante la notte E che però Per questo freddo Rimane dura Tutto il giorno Ecco che Usando gli sci Questa neve Ti permette Di spostarti Velocemente Non devi tracciare Cioè non devi Battere la traccia Con gli sci E diciamo così La partenza Da questo passo L'attraversare Le prime cime Tutto sul lato sinistro Arrivare in questo Posto centrale Vedere Che si passava Sopra il rifugio Colgo anche l'occasione Perché è diventata Un po' Una battuta Che ho fatto Con qualche amico Mia moglie Giustamente Dice sempre Lascia letto Dove vai Perché almeno Sai Non si sa mai Io avevo Lasciato a casa Un biglietto Lago Rai Che sarebbe La catena montuosa Dove sono andato Val dei Mocini Quindi il punto Più preciso ancora Dentro il lago Rai E sono partito Dal passo Redebus Passo A rifugio Sette Selle Che è quello Che ho inquadrato Nel video E vado Fino in Panarotta Sono tre località Lontane Tra di loro E quindi La cosa particolare Però è che con Questo bigliettino Con questi quattro nomi Avevo lasciato Anche un GPS Con la traccia Che avrei percorso Quindi la moglie Sapeva che eventualmente Ero su quella stradina Su quella strada E qui Omar Lanciamo anche un messaggio importante Perché tu qui Questa sera Ci racconti di questa impresa Bellissima Che ha realizzato Proprio Meno di un mese fa Ma Diamo anche un messaggio importante A tutti gli alpinisti Tu sei una guida alpina La montagna Va sempre rispettata In ogni stagione dell'anno Certo che sì E proprio Abbiamo diciamo Rotto il ghiaccio Questa sera Con la premessa Di cercare Le condizioni giuste Nel mio caso Era appunto Lo zero termico basso La neve dura Quindi non è una neve Che si bagna Col sole Col calore Che poi diventa pesante Che poi può scorrere Sui terreni Come un prato Ripido Eccetera E Diciamo Rimanendo Legati Giustamente Alla sicurezza Ecco Dico Attenzione Per i non detti Lavori Non sono cose Da fare Da soli Cioè In montagna C'è l'abitudine Di andare in due Io le è stato detto Dove andavo Avevo curato Le gite Dei giorni precedenti In quelle zone E quindi Sapevo che Con queste belle giornate Era un giorno In settimana Però Ci sono appassionati In giro Quindi ho trovato Qualche persona Quella Diciamo Sono tutte cose Che si preparano Mettendo in primo piano Chiaramente La sicurezza La sicurezza Io ti ho visto Su questa cresta Insomma Non hai paura Non hai mai avuto paura Magari anche durante Una missione Oppure anche questa missione C'è stato un punto Più difficile Di altri Ma allora Qui vediamo Magari la discesa Però Adesso Quella che vediamo È l'ultima Non si vedrà Non solo le disce Fra un po' Si vede anche Un pochettino Il panorama Però Qui sta andando A 40-50 all'ora Vabbè La neve Qui È ottima Cioè Se io avessi dovuto Fare una cima Soltanto Avrei scelto Un orario Dove le discese Erano con una neve morbida Qualcuno la chiama Mochette Cioè perché È la sensazione Che è camminare Piedi nudi Sulla mochette Rispetto a un pavimento Che è molto più duro Ma La cosa interessante È invece Aver trovato Delle condizioni Dove la neve Era dura Che mi permetteva Questi spostamenti Veloci Non sprofondare Quindi diventa Essere veloce In certi punti Però era fin troppo dura Ho fatto dei tratti A piedi Dove Diciamo Programmandolo Avevo pensato Quasi di sicuro Di avere nei piedi Di sci Con le pelli di foca Come tutti gli alpinisti Ho dovuto toglierli Perché era più sicuro Camminare a piedi In quei punti Che non La caratteristica Del mese di marzo È stato Un mese Che è andato A seguito Di grosse nevicate Quelle che abbiamo avuto Per fortuna Quest'anno Che hanno creato Le cornici Come quelle che hai visto Queste creste Che escono Dalle montagne Che si sporgono Dalle montagne Gli addetti Livori Come dicevamo prima Sanno Che bisogna Stare un po' Più Lontani Da queste sporgenze Stare un po' Più all'interno Della cresta stessa Per avere questa sicurezza Però ti do una chicca A un certo punto Io arrivavo Verso la fine E Queste creste Non mi hanno permesso Di andare Prima del dovuto Sul mio itinerario Ho dovuto fare Una cresta Molto lunga In salita Diciamo inutile Diciamo così Potevo evitarla Per poter saltare giù E sono effettivamente Saltato Ho proprio fatto Un salto Di un metro Un metro e mezzo Perché c'era una cresta Che continuava Per più di mezzo chilometro Questa è una bella fotografia Se la regia Riesce a tenerla Ferma un attimo Dove dai Alle cime finali Si vede un po' Il percorso Che ho fatto Con le varie cime Con le varie vette E lì in fondo A sinistra Nella foto Lì in alto Non è ancora Proprio la partenza Ma ero partito Da là Alle otto di mattina Qui in sole 2 Del pomeriggio Più o meno E la catena Del Lago Rai Ripeto È la Val dei Mocini È un bacino Proprio una conca Naturale Di cime Che partono da sinistra E fanno il giro Verso destra E ognuna di queste cime È abbastanza famosa Per gli appassionati Di questo sport Ci sono dei bergamaschi Che vengono a trovarti In queste catene montuose Ma ogni tanto Sì Intanto la vediamo Su Google Map Come si dice Guardate che spettacolo Sono 30 km Sono 30 km Di creste e di cime È una successione Proprio ti accorgi Che la traccia È a cavallo Tra le due vallate Diciamo così Quando faccio queste cose Le ricerco Me le preparo a casa Mi studio la traccia Eccetera Degli amici bergamaschi Ogni tanto Più che altro Mi chiamano Per chiedere Come sono le condizioni Perché giustamente Simone Moro E io copio un po' da lui O comunque Tanti alpinisti Anche più vecchi Di Simone Moro Di me Hanno sempre detto Che Bergamo È in centro al mondo Perché? Perché un bergamasco Può andare O su Monte Bianco Se va da una parte O sulle Dolomiti Se va dall'altra Per cui tutti i bergamaschi Che vengono sulle Dolomiti Soprattutto mi chiamano Per chiedermi Come sono le condizioni E quindi insomma Sei anche un po' Il punto di riferimento Per quello che riguarda Tutte le catene montuose Chiaramente di Trento Ma noi Io ti ho presentato appunto Come residente a Trento Residente ad Arco Di Trento Insomma Nelle vicinanze Però insomma Le tue origini Sono bergamasche E da lì Nasce anche La tua grande passione Per l'alpinismo E le nostre montagne Raccontaci qualcosa di più Ma come bergamasco Forse Beh è l'alpinista Di sempre Quello Quello più conosciuto Da tutti gli alpinisti Nel mondo Walter Bonatti Bergamasco anche lui Forse abbiamo Non lo so La testa più dura Di qualcun altro Ci fa per dire Però purtroppo In quello che è successo Non tanto bello Di qualche anno fa La famosa frase Mola mia Cioè Bergamasco Che non molla Che tiene duro Che sopporta Anche le cose Che non vanno Proprio del tutto bene E che sa reagire Anche alle difficoltà Forse Siamo Diciamo così Una Come si dice Una tribù Di teste Di teste dure Di gente Che quando si mette In testa qualcosa Cerca di portarlo A termine Come anche tutti i ciclisti Bergamaschi Tutte le ho già messo in testa Da ragazzino Quando in quel di San Pellegrino Poi Ti sei messo subito in gioco Sì Le valli bergamasche Non sono alte Come quota Però hanno le montagne attorno E Io avevo la fortuna Di avere la mamma Di Giorzone Oltre il collo Giorzone Zambla Adesso ci sono i baci Di Zorzone Ah sì Ci sono i biscotti Famosi di Zorzone È vero È vero Una volta non c'erano Poi invece Hai ragione È vero L'ultima volta Me le sono prese anch'io Anche per il ricordo Del paese Certo E questo paese Era dove trascorrevo Le vacanze estive Dove trascorrevo Le vacanze invernali E quindi sono cresciuto Con i miei genitori Che erano semplici Escursionisti Però la voglia di arrivare In una montagna E vedere cosa c'era Al di là Mi ha portato A salire le montagne Diciamo Un po' di tutte le Alpi Ecco E anche qualche montagna Del mondo E adesso sei a tutti gli effetti Una guida alpina Ti cimenti con queste Bellissime Escursioni Se posso definirle così Omar Sì Ogni foto In effetti Rappresenta Un'escursione Di quel momento lì E poi vabbè Io ho fatto l'insieme Di tante escursioni E adesso tu Fai questo di lavoro Cioè Accompagni a tutti gli effetti I vari gruppi Sulle montagne di Trento Ma è sempre stata Una passione Anche quando non ero guida Cioè Diventavo in automatico Il leader Diciamo così Del gruppetto di amici Che Mi inventavo Di andare a sciare Sui ghiaioni Con gli scili Di scese Sulla ghiaia Perché Si copiava Tony Valero Oppure Chi faceva Sci estremo In quei tempi là E quindi Questa forse Diciamo Particolarità Che avevo un po' innata Trasformandola poi In una professione A tutti gli effetti Mi fa ancora adesso Divertire A portare in giro persone E Non mi annoio Perché vedo Nei loro occhi La gioia Di raggiungere Un obiettivo Che magari da soli Non sarebbe in grado Di raggiungere Quando parlavo prima Di punti di riferimento È appunto per quello Mi piace Il discorso Che hai sempre voluto Essere un leader Anche all'interno Del gruppo Proprio come trascinatore Positivo In quelle che possono essere Delle escursioni Anche difficili Ma sempre Con la testa Sulle spalle Questo è la cosa Il messaggio Che poi vuole Arrivare Anche questa sera Ma Omar Io sono curiosa Al di là di questa Bellissima impresa Che ci hai raccontato Ci hai mostrato Pure le immagini Meravigliose Questa sera Tra questi 30 chilometri In questo anello speciale C'è un'altra escursione Che vuoi raccontarci Che ha segnato Anche la tua storia Personale Anche da Guida Alpine Ma Io ho fatto Diverse cose Simili a questa Magari anche più lunghe Non so Magari più difficili Magari Diciamo L'inizio Impossibili Non ce n'è però Uno in particolare Che esalto Di più Di più di un'altra Se dovessi parlare Di gare Di alpinismo Come non ricordare Per esempio La vittoria Al Mezzalama Nel 97 Ormai si parla Di 30 anni fa Come ho vinto Tante altre gare Però Non è la vittoria Di una gara È cosa porti a casa Di una gara Magari arrivi Quarto Quinto Sesto O secondo E però L'hai L'hai vissuta Diciamo Come la gara Più bella Del mondo Perché magari C'era una bella giornata Perché magari C'era un bel ambiente C'era una bella neve Eccetera Mi piace Crearmi Degli obiettivi Per avere degli stimoli Per portarli a termine Quindi Gli stimoli Danno sempre La voglia di vivere E sono questi i sogni Nel cassetto Io ho un armadio Insomma Ogni tanto Ne pesco uno L'anno prossimo Compio 60 anni E diciamo così Vi lascio solo Il punto di domanda Stavo dicendo Vuoi svelarci Quale sarà Il prossimo desiderio Ma Credo che Quando compierò Appunto Nel 2025 Ho più Di un'idea Insomma Porterò a casa Qualcuna Qualcuno di più Però L'Izzola Per esempio È una località Che Se ti ricordi Ci aveva dato Un po' una mano Nella 24 ore Nell'Everesting Quello che si chiamava Everesting E pensa che Facciamo un'anteprima Qui a Antenna 2 Praticamente L'anno prossimo Credo Si riesca a fare Un qualcosa Aperto a tutti Dove ognuno Proverà a battere Il proprio record Non è una gara Non ci sarà Proprio un vincitore Ma L'Izzola Ci sarà a disposizione Una pista Dove chiunque Iscrivendosi Potrà Percorrere Il proprio Everesting Il proprio record Di dislivello Quindi questo In 24 ore Questo è uno Di quelle cose Che farò a 60 anni Perché Perché L'anno scorso Avevo di proposito Mi sono fermato A 9200 metri Cioè Oltre l'Everest Però Non volevo Perché ho lasciato Le due cifre Quindi 10.000 O 11.000 A I 60 anni E lì Per lasciare aperto Ancora una porticina Perché ci sono i traguardi Poi da raggiungere E da battere Per Battere se stesso Un'ultima domanda Anche perché Poi ci chiudono E ci mandano Nero Omar Ma io davvero Farei Trasmissioni intere Chiacchierando con te Mi dici solo E magari può essere D'aiuto anche a tutti I nostri telespettatori Nella prima Escursione che hai fatto Che ci hai mostrato Cosa avevi nello zaino Allora Si cerca sempre Di essere Leggeri Per essere veloci Certo E fare meno fatica Sì E fare meno fatica E però Nello stesso tempo Si cerca Di avere tutto Io per esempio Ho azzardato un po' Non portare i ramponi Ed è andata bene Diciamo Questo azzardo Fatto di esperienza Di sapere Che tipo Lì neve c'era Eccetera Però ti voglio Chiudere Con una Con una affermazione Che è stata Del grande Melner Un nostro alpinista Italiano Famoso in tutto il mondo Pensa che lui Ha detto una frase Che poi Io la dico sempre Non gli addetti ai lavori Ma per far capire le cose Il migliore alpinista È inversamente Proporzionale Alla grandezza Dello zaino Cioè Più ti porti Inutilmente Uno zaino grande Più sei piccolo Come alpinista Più ti porti Con le cose giuste Lo zaino piccolo E più vuol dire Che sei un forte alpinista E quindi insomma L'importante è avere Uno zaino piccolo Ma con dentro tutto Con tutto Questo è importante E poi alla fine Il concetto Davvero è arrivato Omar Io davvero ti auguro Il meglio Anzi ti ringrazio Per essere arrivato Direttamente qui a Cusone Da Trento Da Arco di Trento Io so che ci segui Anche da là Quindi insomma Ci fa davvero piacere In questa puntata Davvero speciale Che ha voluto Radunare tutto il nord D'Italia Da Monza Passando da Bergamo E come un uovo Per arrivare In provincia di Trento Per raccontare Le storie Dei tanti sportivi Esattamente come Omar Che questa sera Sono venuti a raccontarsi In bocca al lupo davvero Io ti aspetto per i 60 anni Grazie mille Grazie a te Grazie a te Grazie anche a chi Ti ha accompagnato Questa sera In bocca al lupo Anche per il tuo percorso Da guida Vive il lupo L'ultima cosa Perché poi dobbiamo chiudere Hai un profilo social Qualcuno ti può contattare Per accompagnare qualcuno Col mio nome Trovate tutto Trovate sia Facebook Sia Instagram Sia il sito internet Insomma Quindi andate su Google Omaro Prandi E trovate tutto Per contattarlo Su Google Si si riempie una pagina Delle cavolate Che ho fatto Altro che cavolate Grazie davvero A Omaro Prandi Grazie al nostro Felix In regia Per non averci mandato Nemmeno a nero Questa sera Io vi ricordo Che potete rivedere Questa trasmissione Anche sul nostro canale YouTube Proprio dedicato Ad Antenna 2 Sport E potete condividere Queste interviste Con i vostri amici E far conoscere Anche tutti gli ospiti Che mi hanno avuto Questa sera Lo potrete trovare Anche sul sito Internet MyValley.it Scorrendo fino in fondo Andando in home page Grazie per averci seguito L'appuntamento rinnovato Per il prossimo martedì Sempre qui Puntuali 21.30 Canale 84 Buonanotte a tutti